Ciao, sono Ruggero, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e oggi, a seguito del colpo di caldo che ho preso nel video precedente, ho deciso di mettere l'ostinato dei piedi ternario sotto al warm-up tempo progressivo che abbiamo usato quest'estate binario, per cui i piedi saranno ternari e le mani eseguiranno il warm-up binario, ok? Sempre a 108 come nel video precedente. Ascolta quello che viene fuori e poi provaci anche tu. Andiamo? Quindi. Piedi ternari. Binario. Piedi ternari. Piedi ternari. Piedi ternari. Piuttosto strano anche questo, eh? Provaci anche tu e fammi sapere come va. Ciao e buona estate.